No! Ai margini della guerra Sono stato ai treni questa notte I miei genitori non torneranno a prendermi, vero? Probabilmente no Al limite della sopravvivenza Che cosa mi succederà? Lui è Romek Oggi comincerò le lezioni di catechismo per tutte quelle anime perse che per la guerra non hanno ancora fatto la prima comunione I primi innocenti risvegli Ti piacerebbe baciarmi? La paura L'orrore Per ogni maiale che riuscirai a prendere salverai una vita Padre, i tedeschi! Sarà per sempre il tuo fidanzato! Chiamerò per sempre! Dopo il sesto senso e Ehi ai, Elijol Osment Willem Defoe Voi pensate che sia vino quello che bevo sull'altare? No, è il sangue di Cristo In bilico Tra la salvezza e l'oblio Diretto da Jurek Bogajewicz Non preoccuparti, sono solo gli scarti delle ostie e io non benedico mai gli scarti Noi siamo benedetti o siamo solo degli scarti L'ultimo treno Per l'ultimo treno Un'altra Per l'ultimo treno Grazie a tutti.